utilizzando l'applicazione quiz patente tradotto che potete gratuitamente scaricare sul vostro smartphone e consultare in 105 lingue sia per quanto riguarda i quiz sia per quanto riguarda la teoria in questo video analizzeremo nei quiz per argomento che vi ricordo sono i primi da affrontare dopo aver studiato naturalmente l'argomento prima di affrontare e di provare i test a tempo cioè le simulazioni delle schede d'esame quindi vediamo nei quiz per argomento relativi ai pannelli integrativi dei segnali i quiz che riguardano il pannello integrativo di estesa vediamo prima cosa ci indica il nostro manuale su questo pannello ciascuno dei pannelli integra cioè completa il segnale sovrastante indicando la lunghezza estensione espressa in metri o in chilometri del tratto stradale pericoloso nel quale si applica la prescrizione di vieto o obbligo se posti sotto il segnale di doppia curva figure 907 indicano la lunghezza di un tratto di strada con curve pericolose in successione mentre sotto il segnale di strada dissestata figure 901 indicano la lunghezza della strada in cattivo stato è sbagliato dire che indicano la distanza dall'inizio del pericolo dell'indicazione o della prescrizione questo è il significato del pannello distanza figure 121 il pannello integrativo raffigurato posto sotto un segnale di obbligo indica la lunghezza del tratto stradale nel quale vale la prescrizione del segnale la risposta corretta è vero il pannello integrativo rappresentato in figura A indica la distanza di sicurezza da mantenere in caso di pioggia risposta corretta falso il pannello integrativo raffigurato indica la distanza tra il segnale e il punto di inizio del pericolo non è un segnale di distanza ma un segnale di estesa ossia di lunghezza del tratto di strada a cui si riferisce il segnale che accompagna il pannello quindi estensione lunghezza del tratto di strada non distanza da un punto più avanti sono due pannelli diversi attenzione a non confonderli il pannello di distanza non ha le due freccioline quindi la risposta corretta è falso il pannello integrativo raffigurato in figura B posto sotto un segnale di pericolo indica in chilometri la lunghezza del tratto di strada pericoloso risposta corretta vero il pannello integrativo rappresentato in figura A obbliga a proseguire diritto per 380 metri la risposta corretta è falso è un pannello integrativo non è un segnale stradale verticale i segnali di obbligo hanno forma rotonda e fondo blu quindi falso il pannello integrativo raffigurato posto sotto un segnale di pericolo indica la lunghezza del tratto di strada pericoloso risposta corretta vero il pannello integrativo raffigurato in figura A indica l'altezza di un viadotto la risposta corretta è falso perché l'altezza del viadotto non ha senso semmai dovrebbe indicare la lunghezza l'estensione del viadotto cioè di questa strada ad alta quota il viadotto è una strada che è messa molto in alto rispetto al fondo valle il pannello integrativo raffigurato può essere posto sotto un segnale di divieto la risposta corretta è vero possiamo verificare tutte le nostre risposte nell'elenco finale se il video vi è piaciuto mettete un like e condividetelo e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale in questo modo sarete avvisati di ogni nuovo caricamento vi diamo appuntamento al prossimo video buon anno buon anno